Questo lo mette sotto la mano. Quindi non resisti, questo non lo resisti, questo non lo resisti, questo. Vedete che per tirarlo non lo faccio così io, io sono indifferente e se c'è la pressione su lui lo tiro verso di me, così, e lo spingo via, senza fare uno, Certo che si faccia così qualcuno, qualcosa a te, ma invece questo, giù, poi avanti. E queste sono le radici, non sono queste le radici. Quando ho tutte le gambe facciate per te la doppia 12. Ma la forza non cambia. Non è che quando tutte le gambe, tutte le radici sono, è sempre quella. Perché in realtà è quella radice. E' la pressione che sta a terra. Quindi vedi che se io cambio tu non senti niente. Non è che senti questa. La pressione nel cambio. Grazie.